Mi ricordo tanti anni fa che stavo suonando, forse a Bologna, in un club, ed ero pieno di pensieri. Suonavo ma non ero lì, perché pensavo adesso qui devo far bene questo, quello accordo là, adesso faccio questo, l'ho studiato, adesso faccio questo. A un certo punto mi è suonato come un campanello, uno shock, un piccolo shock. Mi è sorto una domanda, ma cosa sto facendo? Ma perché? Non sto facendo la cosa più importante del mondo, perché domani il sole sorge, la luna... Il mondo va avanti, gira, è solo un momento che io devo vivere appieno, non per gli altri, per me. Questa è stata per me una scoperta molto importante, devo dire, perché da lì è cominciato un altro cammino. che mi ha accompagnato, che non sempre funziona, voglio dire, poi ci sono giorni in cui uno è più o meno, però c'è la domanda. Io voglio essere in quello che faccio, questo è importante. Allora, non sono tanto più importanti le note, quanto il tempo, il tempo è più importante delle note, quando si suona vogliate.